ciao sono francesco sono community manager di italia che cambia partecipiamo al bando che fare che promuove cultura e innovazione siamo nella fase del voto del pubblico molto importante per noi votate italia che cambia perché l'italia cambia vota italia che cambia perché stanno facendo delle cose fantastiche vicino a casa tua basta che ti guardi intorno e vedi che il cambiamento già realtà voto il progetto italia che cambia perché ci sono un sacco di ragazzi simpatici che hanno tante idee tanta voglia di fare è un alternativo a tutto quello che c'è in giro ancora adesso in italia vota italia che cambia perché è un mondo di pazzi che costruiranno un futuro fantastico vota italia che cambia perché abbiamo davvero bisogno di raggiungere ancora più persone il progetto di italia che cambia può diventare ancora più bello e ambizioso partecipare a questo bando vuol dire dare risorse a questo progetto e dare forza ciascuno di noi per diventare davvero un agente di una italia futura più felice e più solare manca poco ci avete già votato in tanti ma ci servono ancora più voti anche per dimostrare che rappresentiamo una comunità coesa e di un'italia che ha veramente voglia di cambiare votate 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 perché l'italia che cambia sia anche tu abbiamo tanti che ti avete sentiti grazie so più